con l'Arsenal però nell'andata a Londra è andato via anche uno di Cercivento di sopra e la Tiardiele ha detto i tutti i piedi non stanno là a Londra e lui mi capisci tu per Tiardiello tanti italiani capisci i compagni Arnaldo, Arnaldo, allora a Londra io di Udinese Arsenal e lui ha detto la femmina ha detto tu ti pierce, non ti torni più e lui ha detto in tal televisore, su Telefriuli che sa città il plan, il Furlan e lui capisci anche a Londra come l'inglese e di fatto lui ha detto a Londra è dismontata dall'aereo e ha detto taxi parlare piano però il taxi si è fermato e lui ha detto 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 la partita dell'Udin mi porti tal stadio e lui ha detto per il centro o per periferia e lui ha detto e lui ha detto tanto a Londra e lui ha detto il turismo e lui ha detto e lui ha detto Tchur Tchur Vint e lui ha detto di Mayan allora continuino a parlare in inglese grazie grazie per gli applausi tutti spontanei nessuno ne capisce nulla che fra tutte vieni qua questa bella bambina